Secondo gli esperti quest'anno l'influenza stagionale arriverà in anticipo importante il vaccino anche per difendersi da complicanze come la polmonite Laura Piccinelli Secondo le previsioni metterà a letto 6-7 milioni di persone parliamo dell'influenza che secondo gli esperti stavolta sarà più aggressiva degli scorsi anni è questo il momento adatto per prevenirla attraverso il vaccino visto anche l'aumento di rischi e complicanze derivati proprio dal calo delle vaccinazioni a cui stiamo assistendo L'influenza effettivamente quest'anno è arrivata presto e le persone che devono vaccinarsi sono tutti i soggetti sopra i 65 anni e tutti i soggetti che abbiano malattie concomitanti in particolare malattie cardiovascolari, respiratorie croniche come l'asma e la BPCO e il diabete Quali sono le conseguenze se non si fa il vaccino antinfluenzale? L'influenza purtroppo è gravata da complicanze in particolare dalla complicanza della polmonite La polmonite è tuttora una malattia importante gravata da un'elevata mortalità in particolare nei soggetti più anziani I dati sulla diffusione della polmonite parlano di una malattia in forte aumento in Europa in una popolazione che conta un numero crescente di anziani con 3 milioni di casi ogni anno e un milione di ricoveri ospedalieri un rischio importante che riguarda 7 over 50 su 10 La prevenzione delle complicanze dell'influenza passano attraverso l'utilizzazione del vaccino antinfluenzale come primo step L'altro punto è utilizzare il vaccino antipneumococico Il vaccino è a disposizione presso le ASL ed è gratuito per i soggetti sopra i 65 anni e per coloro che hanno malattie concomitanti